Le donne vengono costrette a prostituirsi sotto la forza intimidatrice del rito voodoo alle quali vengono previamente sottoposte in Nigeria prima della partenza e nella loro credenza questi riti comportano la convinzione che qualora non dovessero estinguere il debito contratto per il viaggio morirebbero loro o loro familiari o ci sarebbero delle gravissime conseguenze. Riti voodoo, minacce e violenze, c'era tutto questo dietro la tratta internazionale di ragazze nigeriane scoperta dalla squadra mobile della questora di Teramo e che ha portato a cinque arresti. Dodici in totale sono le donne costrette dall'organizzazione a prostituirsi sia lungo la bonifica del Tronto che in cinque appartamenti fra Martinsicuro e Monsampolo del Tronto. Il triste cliché della tratta purtroppo è sempre lo stesso, ragazze ingannate dal sogno di una vita migliore e di un lavoro in Europa che hanno affrontato il viaggio della speranza sulla rotta migratoria che dalla Nigeria passa per la Libia e i barconi degli scafisti che attraversano le acque del Mediterraneo per sbarcare sulle coste della Sicilia. Tra i 25 e i 30 mila euro il costo della traversata da pagare ai trafficanti di uomini, soldi che venivano ripagati dai proventi della prostituzione e sui quali pendevano anche riti voodoo. Nel corso delle indagini una delle giovani prostitute nigeriane identificate ha denunciato tra le lacrime a personale del mio ufficio della squadra mobile di Teramo la sua triste storia. Ci ha raccontato anche che durante l'attraversamento della Nigeria su una jeep nella quale vi erano altre donne nigeriane erano state aggredite da alcuni uomini che volevano da loro dei soldi e che una sua connazionale dopo essere stata picchiata e dopo essere risalita sulla jeep si è sentita male, caduta e ha perso la vita. Dopo questo lungo viaggio sono arrivati a Tripoli, è arrivata a Tripoli dove è stata per molto tempo all'interno di un'abitazione con altre persone di etnia nigeriana in attesa di viaggiare anche loro clandestinamente tramite la rotta mediterranea verso le coste siciliane e poi finalmente ha affrontato questo pericolosissimo viaggio che l'ha portata in Sicilia dove è stata reclutata da una delle arrestate che l'ha avviata alla prostituzione pretendendone con violenza e minaccia ai proventi. L'inchiesta condotta dalla Didi Aquilana ha messo le manette ai polsi a quattro donne nigeriane Elisabeth Rashidad Salomon, 41 anni, residente a Martinsicuro stesso posto di residenza di altre due donne arrestate Vera Obanor, di 44 anni, e Sace Sadam, di 32. In carcere anche Kate Osazua, 35 anni, residente a Monsalpolo del Tronto la donna che teneva sotto scacco psicologicamente le ragazze sfruttate. Agli arresti domiciliari, anche un italiano, Gerardo Di Sabatino, 62enne terramano, proprietario e comproprietario degli appartamenti dove le ragazze si prostituivano. Irreperibile invece una quinta persona destinataria del provvedimento di custodia cautelare in carcere firmato dal GIP della Procura Aquilana. I reati a vario titolo sono sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.